Zampe di ragno, coda di rospo, ali di pipistrello, scaglie di drago, pilla di squalo. Cosa vuoi combinare con quella brodaglia? È il mio filtro magico anti-malanni. Anti-malanni perché vai direttamente al creatore se bevi quella roba. Sì, è vero. È vero. È vero! Ciao amici! Ma lo sapete che esistono delle spezie potentissime, capaci di farci stare bene in modo naturale, semplice, facile e veloce? Eh, noi un'idea ce l'abbiamo! Ma io parlo di sostanze legali! Cosa avete capito? Parlo delle spezie che dietro i loro colori, profumi e sapori racchiudono poteri inaspettati. Wow, allora super squaletto, non mi sa bene? Oggi vediamo insieme le 5 spezie anti-infiammatorie più potenti di sempre per dare i superpoteri al sistema immunitario e non ammalarsi durante la stagione fredda. Per rimanere in salute, no, come ci spiega l'Ayurveda. Chi mi segue da tempo lo sa, magari chi è nuovo no, l'Ayurveda è una delle mie passioni preferite, io l'adoro. Una delle cose più incredibili per questa antichissima scienza è che ogni alimento è una medicina e quindi quello che mangiamo può farci stare bene. Basta scegliere le cose giuste. Eh, la fai facile tu che sei naturopata. Ma la salute naturale deve essere facile per tutti e io la faccio facile per voi. Basta guardare tutti i video del canale dove trovate tantissimi consigli, tutorial, ricette naturali per stare bene. Per seguirli tutti iscrivetevi al canale, è facile, basta un click così e attivate la campanella delle notifiche per essere i primi a vedere i nuovi video. Se qualcuno vuole approfondire la propria situazione sono sempre disponibile per una consulenza, anche online se siete lontani. Chiedetelo nei commenti. E adesso è anche il momento giusto per mettere i vostri mi piace. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ecco fatto. Però quante chiacchiere, quando è che arrivano le spezie? Sì, mi piace chiacchierare delle mie passioni. Ecco le mie chiacchiere aiutarvi a capire il perché delle cose. Perché fa bene questo e non quello. Perché una cosa fa bene solo se fatta in un certo modo e non in un altro. Beh, in effetti da sola non saprei. Senza capire si fanno errori e il capire porta al fare. Quindi senza capire bene non si può fare bene. Insomma, adesso che abbiamo capito, vai con le slide. Alla prossima! fantastiche queste spezie vero cosa ne dite siate generosi condividete questo video con i vostri amici sui vostri social ormai siete degli esperti diventate anche voi portatori sani di salute naturale noi ci vediamo al prossimo video nel frattempo sempre trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao